Per amore dell'Italia si possono fare pazzie e cose sagge. 18 anni fa sono entrato in campo, una follia non priva di saggezza. Ora preferisco fare un passo indietro per le stesse ragioni d'amore che mi spinsero a muovermi allora. Annuncia così il suo ritiro dalla politica Silvio Berlusconi. Non ripresenterò la mia candidatura premier, ma rimango al fianco dei più giovani che debbono giocare e fare gol. Ho ancora buoni muscoli e un po' di testa, ma quel che mi spetta è dare consigli, offrire memoria, raccontare e giudicare senza intrusività. L'ex premier anticipa che il suo partito andrà presto al voto per scegliere il suo erede politico. Con elezioni primarie aperte nel PDL sapremo entro dicembre chi sarà il mio successore, dopo una competizione serena e libera tra personalità diverse e idee diverse cementate da valori comuni. Una villa da un milione di euro, con nove vani più giardino. Peccato che l'immobile fosse stato acquistato da una infermiera 46enne in servizio presso un ospedale della provincia di Pesaro, con i soldi di una serie di frodi fiscali commesse dal marito e della banca rotta fraudolenta della concessionaria di auto che l'uomo gestiva in provincia di Perugia. Per questo motivo la donna è stata denunciata per riciclaggio dalla Guardia di Finanza, che le ha sequestrato l'immobile che si trova a mercadello sul Metauro. La donna ora rischia una condanna fino a 10 anni di reclusione. Continuano gli incontri tra i partner di governo ad Atene per trovare un accordo sulle misure di austerità richieste dalla Troica, in cambio della concessione della nuova tranche di aiuti da 31,5 miliardi di euro. La difficile situazione finanziaria del paese rende infatti urgente l'approvazione del nuovo pacchetto austerità, che per il ministro delle finanze Sturnaras sarà presentato in Parlamento dopo la conclusione della riunione dell'Euro Working Group al Via Oggi a Bruxelles. Intanto il gruppo parlamentare della sinistra democratica, riunitosi durante la notte per decidere sulle correzioni concordate ieri con la Troica in merito alla riforma del mercato del lavoro, ha concluso che il partito non può accettarle. Calano le retribuzioni contrattuali orarie a settembre che salgono solo dell'1,4% su base annua, dall'1,6% di agosto, mentre su base mensile restano quasi ferme, crescendo dello 0,1%. Lo rivela l'Istat. Il dato tendenziale rimane sotto al livello di inflazione annuo dello stesso mese, con un divario che si allarga ad 1,8 punti. Anche nella media del periodo gennaio-settembre 2012, l'indice è cresciuto dell'1,4%. Guardando i principali macrosettori, l'Istat rivela che a settembre le retribuzioni orarie e contrattuali registrano un incremento dell'1,9% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. Chi sperava che la Champions sarebbe stata un tocca sana per curare i mali del Milan è rimasto deluso. Con il Malaga non c'è stato niente da fare, si è resistito per un po', ma nella ripresa Joaquin ha giustiziato Amelia. Dopo l'ennesimo KO, Allegri sembra avere le ore contate. Non si può dire che in terra spagnola la prestazione dei rossoneri sia stata indecorosa in toto, ma a tratti si è palesata quell'impotenza che già a molte partite è venuta a galla. Non si può pretendere dal sole al Sarawi di essere sempre risolutivo e di salire in cattedra ogni volta che si presenta la necessità di reagire. Si spera che Pato trovi presto la condizione migliore. Con il Malaga non è riuscito ad incidere una volta entrato in campo, ma una sua esplosione potrebbe essere una manna dal cielo per rinvigorire un reparto troppo spento. Questa sera ci sarà spazio invece per la terza giornata di Europa League, dove le italiane riescono a dare qualche garanzia in più rispetto alla Champions. I primi due match si disputeranno alle ore 19 con l'Inter, che ospiterà il Partisan Belgrado al San Siro e la Lazio di Petkovic, che si contrapporrà al Panathinaikos ad Atene. Alle 21.05 ancora doppio appuntamento con Napoli e Dudinese, rispettivamente ospiti di Nipro e Young Boys. Grazie a tutti.